Ingegnere Suppa, dirigente scolastico del Liceo Classico Morelli e dell'Istituto Artistico Colau, un istituto comprensivo importantissimo che avvibbo. Oggi una giornata speciale con Jack Sintini con la Tonno Calipo per raccontare una storia di vita, una storia di vita anche questa speciale. È un messaggio che ha voluto lasciare a questi ragazzi in questa giornata il nostro pallavolista Jack Sintini. Un messaggio di socialità, di promozione umana, culturale, civile, affinché tutti guardiamo e ci impegniamo per aiutare chi sta male, chi soffre, per dare un messaggio di speranza. Il suo libro Forza e Coraggio questo ci dice. Troviamo sempre delle ragioni positive e valorizziamo ogni momento della nostra vita. Cerchiamo di recuperare quel dialogo generazionale, quel dialogo nella famiglia, quel rapporto nella società, quei valori fondamentali che in qualche modo aiutano tutti a crescere e a stare un po' meglio. In fondo se ci sono questi momenti fondamentali, importanti, forse questi ci aiutano a superare e ad affrontare meglio le difficoltà. Lei ha parlato anche del ruolo strategico che riveste la società sportiva Volley Tonno Calipo Calabria Vibo Valencia nella prosecuzione di questo messaggio di coesione sociale. Sì, in tutto questo percorso è ammirevole che una società sportiva che lavora all'interno del sociale promuova questi momenti e questi incontri con i ragazzi, promuova questi aspetti soprattutto della coesione, dello stare assieme, del condividere momenti importanti. Lo sport è civiltà, è modo di stare insieme, è modo anche di promuovere e di portare messaggi positivi nelle giovani generazioni. Lo sport naturalmente, io insisto, è quello vero, non quello fatto dagli scalmanati che danneggiano gli stadi, che danneggiano i centri storici, ma lo sport è quello che porta un messaggio di promozione umana in Jake Sintini e nella società Tonno Calipo, noi stamattina abbiamo potuto valorizzare e confermare che quando lo sport è fatto, ed è fatto con sani principi, è quello più importante, che aiuta i ragazzi e tutta la generazione in fondo a crescere meglio.